buonasera a tutti siamo contentissimi di trovarci qua vi presento innanzitutto david umberto zappa perché il padrone di casa il padrone come si diceva una volta del maniero dello studio bellissimo dove ci troviamo e che si occuperà di capture one tra pochissimo abbiamo marco petracci che io indico ma si vedrà sì ciao marco fatti vedere sei lui sei lui scusate e si occuperà invece di photoshop subito dopo dopo giuseppe che invece è collegato da conegliano veneto castelfranco veneto da castelfranco invece aprirà la serata dopo i miei saluti e una piccola digressione sulla storia della post produzione parlando di lightroom che è un po diciamo l'inizio naturale del flusso di lavoro del fotografo dunque ringraziamenti siamo noi spazi fotografici contentissimo siamo qua per per parlare di post produzione ringraziamo foto emma che ci sostiene che ci dà una mano e dopo qualcosa di più dirà di rassimone che sta dietro di noi non si vede ma gestisce tutti questi computer collegati dunque perché siamo qua siamo qua per parlare di post produzione e senza dimenticarci che come dire siamo sempre sotto il grande cappello nel senso buono della fotografia quindi considera consideriamo la post produzione una fase indispensabile e naturale del processo fotografico e quindi ne parliamo in modo come dire globale partendo proprio dal vedere le immagini e dall'affrontare un problema che che salta sempre facilmente fuori quando si parla di post produzione cioè del fatto che siamo sempre in bilico tra sentirsi un po respinti dal problema della post produzione dalla paura di andare oltre e nello stesso tempo sentiamo la necessità di questa fase anzi non non la sentiamo è semplicemente indispensabile come detto prima quindi diciamo così per capire qualcosa non per capire qualcosa di più ma per affrontare l'argomento da un punto di vista globale e è un po più oggettivo cerchiamo di capire da dove siamo partiti io cerco di condividere il mio schermo mi sono preparato un po di immagini adesso vediamo se ci riesco e bene di cosa parliamo quando parliamo di post produzione io non sono uno storico faremo una veloce carrellata di immagini dagli albori ai giorni nostri per capire un po cos'è questa sensazione di falsificazione della realtà che abbiamo quando parliamo di post produzione bene vediamo dove sta l'inghippo alzi la mano chi è che non ha mai sentito qualcuno dire una cosa del genere io uso il jpeg da quando esiste il digitale perché non voglio fare post produzione non voglio falsificare la realtà perché la fotografia è la realtà ok oppure da quando esiste photoshop non si sa mai se una foto è vera o meno dunque qual è l'equilibrio tra la tanta o la poca post produzione oppure addirittura post produzione sì o post produzione no è un falso problema perché facciamo un passo indietro la fotografia è una realtà quindi giusta la fotografia riproduce la realtà giusto o no io penso che la fotografia sia sempre una una sorta di forzatura della della realtà scherziamoci sopra ma abbiamo tutti visto questo tipo di immagini ma ci facciamo una risatina perché in fondo sono giochetti da turisti ma quando li fa un grande fotografo cosa cosa succede chi è che ha mai visto un tricirco di queste dimensioni ma noi siamo abituati a pensarlo fotograficamente sappiamo che è un'illusione ottica giusta ancora qua una forzatura eppure questa persona serissima un grande fotografo Bill Brand prima era William Eggleston usciamo dai giochi dalle illusioni ottiche andiamo a un autore che firma ogni sua opera con un timbro iniziale ad ogni libro che dice vera fotografia ecco questa fotografia è vera è reale è realistica lo stesso autore racconta che questa immagine che ci dà questa incredibile sensazione bellissima di solitudine di fascino di 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 drammaticità in fondo è stata scattata durante un qualche cosa di molto simile a una sagra semplicemente usando il linguaggio naturale della fotografia cioè la possibilità di ritagliare fuori dal dall'inquadratura tutto quello che era all'esterno quindi noi sappiamo che il nostro cervello è abituato a pensare in continuità a quello che vediamo nell'immagine ma in realtà un centimetro a destra e un centimetro a sinistra di questo taglio di questa inquadratura c'erano un'enorme quantità di automobili allora siamo in crisi questa benedetta fotografia è reale o non è reale è realistica o non è realistica riproduce o meno la realtà e la postproduzione contribuisce o no a questo fenomeno la postproduzione da quando esiste facciamo un passo indietro radicale dalla prima immagine che conosciamo 1826 il signor Nieves fa questa immagine che già di per sé è un po' strana perché è stata eseguita in tanto tempo una esposizione molto lunga che crea una situazione di ombre assolutamente irreale ma molto irreale è l'immagine stessa perché quello che vediamo lì è una forte manipolazione di questa cosa che è esposta in un museo in Texas e questo è un primo piano di quell'immagine di Peltro ritrovata negli anni 50 da un famoso storico che è costretto, torniamo un attimo indietro, a inventare, a postprodurre pesantemente con le tecniche dell'epoca questa benedetta lastra per far vedere quello che altrimenti si intuirebbe soltanto ma passiamo subito a qualche cosa di molto più comprensibile ai nostri occhi quella che convenzionalmente è considerata la prima immagine di un uomo in fotografia un daguerrotipo, una tecnica che prende il nome appunto dal suo inventore Monset Daguerre che nel 1839 diventa ufficialmente l'inventore della fotografia e compie una cosa che sembra normalissima ma in realtà per chi conosce un po' la fotografia si capisce che c'è subito qualcosa di strano quest'unica persona nella piazza, nel boulevard che doveva essere affollato è veramente strana dovuta alla lunga esposizione che fa cancellare tutti i personaggi in movimento tranne colui che casualmente è fermo, appoggiato probabilmente a farsi illustrare le scarpe da una figura accovacciata ai suoi piedi oppure messo lì a bella posta come dice qualcuno, non lo sappiamo ma di sicuro il signor Daguerre capiva che non poteva essere ripresa nessuna persona in movimento all'epoca e quindi questa scena è in qualche modo irrealistica completamente come era complicatissimo all'epoca riuscire ad eseguire una foto così che appare assolutamente normale pur nella sua bellezza eppure anche questa è frutto di una doppia esposizione il signor Daguerre usava abitualmente questa tecnica una fotografia per il cielo, una per il mare e poi messe insieme in camera oscura ma passiamo ulteriormente a virtuosismi incredibili Raylander nel 1857 o 1858 pubblica questa allegoria della vita virtuosa contrapposta alla vita dissoluta utilizzando 32 negativi preparati e stampati in camera oscura su un'unica stampa altro grande fotografo Henry Peach Robinson esegue quest'altra immagine questa allegoria di una ragazza che passa miglior vita utilizzando solo 5 negativi combinati in camera oscura ebbene queste immagini troppo realistiche troppo realistiche creano scompiglio tanto che questi due fotografi avranno problemi nel proseguo della loro carriera uno smette, l'altro si dedicherà Robinson appunto a immagini più pittoriche più vicine a quello che era accettabile dall'occhio dell'epoca quindi immagine di vita di campagna e con delle tecniche che fanno assomigliare le fotografie a dei dipinti tanto che si pubblica un trattato già all'epoca in cui una delle regole principali è proprio quella di riuscire ad allontanarsi dalla troppa veridicità dell'immagine fotografica per cui bisogna suggerire e sperimentare tecniche che daranno vita a quel grande filone del pittorialismo affascinantissimo ma che sembra quasi in contrapposizione al linguaggio specifico della fotografia dell'epoca eppure già qualcosa ci dovrebbe mettere in dubbio il fatto di questa benedetta veridicità della fotografia tanto che se vogliamo vedere dei colori in fotografia dobbiamo ricorrere a delle tecniche manuali a un misto di pittura e fotografia perché all'epoca le immaginano solo in bianco e nero e già queste dovrebbero farci dire che questa meraviglia di linguaggio che noi adottiamo con nonchalance in realtà non è poi così realistico negli anni le sperimentazioni vanno avanti a vari livelli Man Ray si ritrae, si fa questo autoritratto utilizzando la tecnica della solarizzazione accendendo casualmente la luce in camera oscura scopre questi meccanismi per cui questo tratteggio di chiaro-scuro molto marcato tra le zone chiare e le zone più nere dell'immagine che fa somigliare tutto al disegno viene utilizzato come una cifra stilistica che lo renderà famoso addirittura scopre questi radiogrammi c'è la possibilità di eseguire immagini fotografiche senza l'uso della macchina fotografica semplicemente appoggiando oggetti in camera oscura e sviluppando successivamente la fotografia o stampando sulla schiena della compagna dell'epoca queste cifre, questi segni tipici della viola che rendono questa una delle opere più famose dell'epoca quest'altro autoritrato di Van der Wunz molto famoso, molto visto la doppia esposizione del suo viso sovrapposto a quello di un gatto ebbene, anche Christian Schad compie questo esercizio di fotografia off camera appoggiando materiali però questa volta più bidimensionali rispetto a Man Ray su un foglio sensibile poi sviluppato successivamente ci viene in mente subito qualcosa queste immagini più antiche degli anni 40 di Talbot, un altro dei grandi inventori della fotografia che di nuovo ci mettono in allarme qual è l'immagine vera di queste due se una esiste, se una delle due è vera comunque entrambi in bianco e nero insomma abbiamo capito il meccanismo oppure questa degli anni 30, del 32 già un gioco, un divertimento però qualcosa che ci mette un pochino in crino in fondo Photoshop non era ancora arrivato ma facciamo un passo indietro facciamo un passo indietro e nel frattempo era nato tutto un filone di ricerca sulla specificità del linguaggio che ha avuto un grande ispiratore in Alfred Stiglitz che veniva da un background assolutamente vicino in fondo al pittorialismo con queste immagini affascinanti ed emotive meravigliose e che sarà poi l'ispiratore, il mentore di personaggi come Paul Strand o come Edward Weston che faranno insieme ad Ansel Adams parte di quel mondo della fotografia cosiddetta pura, cosiddetta straight come chiamavano gli americani che vuole usare la fotografia nello specifico del suo linguaggio senza manipolazioni senza aver bisogno di trucchetti per abbellire la realtà o per avvicinarsi al sentimento pittorico al modo visivo del pittorico ebbene, questa è la famosissima immagine che noi consideriamo tutto sommato molto vicina al vero perché è una foto in bianco e nero è una foto che nasce dall'era analogica che viene attaccata in modo bidimensionale a un muro dentro a una cornice in modo simile a un quadro insomma, se la vediamo sulla testa del suo autore di Ansel Adams stampata in due modi diversi di nuovo ci rimette in crisi qual è la giusta immagine se questo termine può essere utilizzato in fotografia qual è quella vera? quella chiara o quella scura? eppure entrambe sono uscite dalle sue mani dalla sua magica camera oscura dove lui era maestro e dalla quale ha ispirato tutti i fotografi di natura da lì in poi ma passiamo al mondo del fotogiornalismo anche qua tutto sembra naturale una bellissima immagine Albert Schweitzer, questo filantropo questo missionario laico ritratto sul campo da Eugene Smith quindi uno dei maestri del fotogiornalismo anche questa immagine a qualcosa che sembra normale ma normale non è perché in basso a destra questi elementi sono stati inseriti in camera oscura quindi una vera e propria manipolazione in realtà non una falsificazione del senso ma un rafforzamento del messaggio di un uomo che lavora a pari livello con gli operai coinvolti nei suoi progetti una falsificazione che sarebbe stata completamente disastrosa per le regole per il linguaggio tipico del fotogiornalismo non si può ritoccare niente in questo modo perché si falsifica la realtà ma se passiamo anche ai grandi ritrati a Richard Avedon che usa anche egli una macchina assolutamente analogica perché gli anni sono quelli perché questa macchina è grandissima pesantissima appoggiata a un cavalletto con una pellicola assolutamente imponente dal punto di vista della gestione dell'operatività ebbene questo apparentemente si può dire semplice perdonatemi il passaggio semplice ritratto in realtà quando viene stampato solo sul viso di uno dei protagonisti richiede questa attività tutti questi segni che vedete sono le manipolazioni da eseguire in camera oscura sul singolo volto di questo personaggio come poi successivamente avviene contemporaneamente in tantissimi ambiti tantissimi fotografi tutti quelli che sono stati in camera oscura sanno la difficoltà che esiste e la quantità di operazioni che si devono eseguire per arrivare dal negativo diretto alla stampa finale che noi conosciamo benissimo ma finalmente arriva il digitale ecco questa è la prima macchina digitale che si conosca inventata dal signor Steve Sasson nel 73-74 mi pare in ambito Kodak era un dipendente Kodak il signor Kodak però produceva pellicola e quindi se permetti carissimi inventori noi non possiamo assolutamente far sapere a nessuno che esiste la possibilità di scattare fotografie senza usare la pellicola benissimo questo è stato l'inizio della fine di Kodak perché qualche anno dopo qualcun altro inventa questa cosa questa scatoletta che costruisce fotografie registrandole su un floppy disk chi si ricorda il floppy disk insomma uno strumento assolutamente digitale non serve più la pellicola e finalmente arriviamo al nostro amato photoshop sono gli anni 90 e inizia quella che veramente sarà la così la nuova storia della fotografia come alcuni dicono ma un passo indietro nel frattempo già era successo che da una fotografia assolutamente così insospettabile e insospettata nasca una copertina verticale invece che orizzontale sembra tutto normale ma se ci fate caso la piramide a sinistra in realtà è stata avvicinata per poter rientrare in questo taglio necessario al National Geographic per produrre insomma una delle sue copertine la prima che si conosca con una dichiarata manipolazione digitale passano degli anni più di 10 anni e questa è una delle è uno degli effetti delle potenzialità del digitale da una parte Newsweek probabilmente più più oggettivo nei confronti del signor Simpson che era stato accusato dell'omicidio della moglie stampa in copertina un'immagine una sua foto segnaletica senza grandi interventi il Time appesantisce in modo violento questa immagine come a sottolineare una presunta colpevolezza ebbene sono tutte domande che ci dobbiamo opporre qual è la situazione giusta dove dove arriva la tecnica e dove arriva l'etica sono domande che richiederebbero un sacco di tempo noi andiamo avanti arriviamo ai giorni nostri dove cose di questo tipo sono ormai assolutamente considerate naturali questa è la Chapelle è il calendario la Vazza 2020 e questa manipolazione della realtà appare naturale Photoshop ci aiuta tantissimo arriviamo a quest'altra immagine dove c'è qualcosa di assolutamente immaginario di assolutamente forzato gatti verdi che tanto verdi non sono in quest'altra immagine quindi già di nuovo se noi ci siamo abituati a guardare immagini su un dispositivo come il nostro display a cercarle in internet abbiamo un ulteriore problema questa è sicuramente la stessa immagine di questa ma non la è cambiano completamente i colori qual è la versione ufficiale qual è quella giusta eppure entrambe sono tratte da siti assolutamente diciamo riconosciuti ed affidabili uno è Art Tribune l'altro è la galleria il museo che pubblica e vende l'opera di Sandy Scoglum che è l'autrice di questa immagine assolutamente immaginaria manipolata manipolata sicuramente reale o realistica non si sa qual è la realtà quello che ci mette assolutamente in crisi è che questa immagine è del 1980 quindi photoshop non era ancora nato non era stato neanche forse pensato abbiamo chiuso il cerchio siamo partiti da una fotografia che sembrava assolutamente normale se così si può dire assolutamente naturale intonsa ad ogni intervento manipolatorio in realtà era un'immagine completamente quasi inesistente creata dallo scopritore della lastra di Peltro sulla quale era stata impressa e siamo finiti a questa meravigliosa scena piena di gatti verdi che sembra un vero frutto un vero figlio di photoshop e che in realtà è solo frutto dell'immaginazione del lavoro meticoloso di Sandy Scoglum insomma siamo arrivati alla fine con la postproduzione possiamo fare quel che si vuole ma quello che serve è partire da una sana cultura visiva da un bagaglio visivo che si è fondato sui maestri e su una sana conoscenza del mezzo a livello globale quello che può essere veramente deleterio in postproduzione è avere la conoscenza settoriale di alcune tecniche da applicare incondizionatamente ad ogni situazione bisogna capire quando usare cosa e soprattutto perché benissimo vi lascio nelle mani di Giuseppe Andretta Lightroom vedremo il suo flusso di lavoro le potenzialità di questo strumento di archiviazione di gestione del file raw e anche di sviluppo passeremo a conoscere alcune tecniche approfondite in photoshop con Marco Petracci e poi sul set ritratto in tethering con Davide Umberto Zappa e Capture One allora che devo raccontarvi io della postproduzione dopo tutta quella sviolinata di Davide Marcesini è stata molto interessante l'introduzione io comunque in questo contesto appunto otterrò il corso di di Lightroom so che ci sono dei colleghi che appunto poi si occuperanno di photoshop e di Capture One quindi per quanto mi riguarda insomma io uso Lightroom dalla prima versione insomma che se non erro era del 2006 il software come tutti quanti insomma io poi sono abbastanza vecchio ad avere visto un po' l'evoluzione di tutti non della numero uno di photoshop per fortuna però insomma dalla 3 2.5 a 3 ci sono arrivato anch'io quindi ecco io farò un corso di Adobe Photoshop Lightroom la versione insomma è quella l'ultima Creative Cloud e Lightroom è un software che dal mio punto di vista è indispensabile nel senso quando si si occupa e si parla di fotografia digitale avere la possibilità di avere un catalogatore di immagini è sicuramente come diceva Davide Marcesini il punto di partenza poi c'è tutto una serie di questioni riguardo alla post-produzione però insomma su questo punto per esempio anche Capture One che possiamo considerarlo diciamo competitor di Lightroom in quanto è un raw developer cioè uno sviluppatore di file raw ha un suo motore un suo modo di interpretare i file raw e quindi diciamo che la base è costituita da questo tipo di struttura avendo usato anche un pochino Capture One insomma le le funzioni dei software sono veramente molto simili dal mio punto di vista uno può preferire quello che possiamo chiamare la salsa Adobe e la salsa Capture One cioè il punto iniziale di sviluppo di un file raw però ecco quello che volevo per esempio farvi capire è io ho scelto meno di una cinquantina di foto del Marocco alcune delle quali scattate con con Davide tra il 2006 2013 credo ecco comunque giusto per guardare un attimino le funzioni di Lightroom ecco se io vado a cliccare nei metadati di questo mio piccolissimo archivio del Marocco vedo che qui dentro ho degli scatti che vanno dal 2013 2014 2015 2016 e 2017 quindi possiamo dire che sono cinque anni di sintesi di viaggi in Marocco Lightroom dal mio punto di vista ha un'ottima funzione di archiviazione nel senso che è molto ben strutturato proprio per consentire al fotografo di gestire sia un archivio generale diciamo che un un singolo database cioè un singolo progetto no che per esempio come è successo a me dopo una serie di viaggi per esempio l'anno scorso ho deciso di fare un progetto su una situazione un po' particolare in Marocco però ecco il fatto di avere costantemente usato Lightroom per l'importazione per l'archiviazione ecco che questo mi permette di riuscire ad avere velocemente anche se le cartelle sono un po' sconquassate vedete questa è la libreria di Lightroom giusto per introdurre brevemente il software dove ognuna di queste immagini sta in alcune di queste cartelle se voglio sapere dove sta questa immagine semplicemente tasto destro sulla icona dell'immagine vai alla cartella in ribellia ecco che me la ritrovo che so che è qui dentro assieme a queste altre fotografie insomma oppure se io dovessi fare una veloce ricerca ecco adesso qui vi chiedo perdono perché ho inserito tutte le parole chiave in inglese quindi se io cerco Marrakesh ecco che queste sono tutte le immagini che ho scattato a Marrakesh da qui vedete e poi si può tornare alla griglia velocemente ecco avere una come si può dire una organizzazione e qui ecco qui vedete come ognuna di queste immagini abbia una serie di parole chiave che io ho dato magari serie di parametri per esempio come possono essere il GPS o cose di così questa dovrebbe avere il GPS però insomma è stato un lavoro di pazienza che io vi spiegherò appunto nel corso come fare come strutturare per esempio un progetto come cercare velocemente avendo messo dentro la parola ritratto ecco questa è tra tutte quelle che io ho scattato sono tutte le foto che contengono per esempio un ritratto no ovviamente poi dopo tutta questa struttura diciamo che Lightroom vi consente di sfruttare ovviamente basandosi sui metadati no cioè su tutte queste cose che sono già in parte scritte all'interno del dei file quindi vedete come io in questi in tutti questi anni abbia scattato immagini con fotocamere diverse no per esempio una Leica Q una Nikon D610 una D700 una X100S questi sono tutti gli obiettivi ma qui dentro vedete io posso inserire qualsiasi tipo di ricerca all'interno dei miei metadati per esempio capire quali sono le immagini che hanno delle coordinate GPS vedete e quali non hanno delle coordinate GPS quindi ci sono diciamo delle situazioni in cui i metadati organizzano o possono aiutare il fotografo ad organizzare l'archivio e sono i metadati EXIF ovvero quelli che sono praticamente contenuti già vedete all'interno no del vedete in questo angolo qui in basso a destra dove c'è scritto l'obiettivo per esempio qui c'è specificato che ho fatto una sottoesposizione altre situazioni oppure esempio possono esserci anche degli IPTC quindi in questo caso vedete io il nome del file ma ho anche una descrizione questa è una foto un po' particolare che è finita nel mio progetto dove ci sono questi ragazzi appunto che si stanno facendo i capelli un po' alla crestina così da calciatori mentre dall'altra parte ci sono delle persone più anziane che stanno appunto pregando perché era il periodo della Ramadan quindi essendo questa poi finita scusate in un lavoro diciamo di reportage le foto che hanno avuto sono state inserite in questo reportage mi sono preso la briga appunto di descriverle quindi se io in questo momento all'interno di tutte le parole faccio una breve ricerca con il mio reportage ecco che queste tre foto sono state inserite oppure posso fare una ricerca per esempio nella città di Esagüira e vedere che Davide conosce molto bene anzi è proprio grazie a Davide che io ho conosciuto la città di Esagüira quindi vedete che queste foto per esempio sono state scattate al porto di Esagüira e in città insomma sono state appunto tutte quante contrassegnate da una parola chiave quindi se io vi faccio vedere tutte queste immagini attraverso questo filtro veloce è semplicemente per il fatto che sono state catalogate per bene a cosa mi serve tutto questo lavoro di catalogazione mi serve per esempio per ordinare un progetto fotografico un viaggio un libro un reportage o qualsiasi altra cosa con attraverso appunto delle non tanto le cartelle no mi ricordo che durante l'intervista preliminare a questa a questa introduzione ho parlato del sì ho paragonato Lightroom un po' alla musica agli mp3 quindi nessuno di noi ci interessa dove stanno i file degli mp3 mentre con la fotografia siamo sempre presi dal controllare dove sono le cartelle ecco l'archivio fotografico tipicamente non viene gestito da cartelle o perlomeno gli si dà un po' meno attenzione ma viene tipicamente gestito da raccolte no quindi io posso crearmi delle raccolte con tutti i ritratti oppure se sono stato bravo ad inserire le parole chiave ecco che velocemente io posso crearmi una raccolta che si chiama ritratti aspettate che scrivo bene e e qui metto la parola chiave però devo inserire quella in inglese portrait eccola qui e vedete che io qui dentro ho già tutte le mie immagini in cui ho scattato dei ritratti se voglio fare la stessa cosa velocemente come una raccolta dinamica dei paesaggi ecco che qui userò landscape e avrò tutti i miei paesaggi ecco ovviamente Lightroom non è soltanto l'organizzazione dei file ma è anche lo sviluppo quindi vedete vi spiegherò durante il corso come il software è basato su una struttura fatta a moduli dove noi abbiamo vedete libreria sviluppo mappa libro presentazione eccetera dove ognuna di queste sezioni ha gli strumenti che sono necessari al fotografo per esempio in questo caso siamo all'interno del modulo di sviluppo e quindi io ho il mio cursore vedete di esposizione posso lavorare sul contrasto posso ad esempio vedete schiarire le ombre usare dei filtri degli algoritmi di digital imaging che vanno a colpire poi ovviamente durante il corso ne parleremo meglio vedete come il concetto di chiarezza o di rimozione foschia che sono una serie di combinazioni che producono degli effetti appunto che vanno spiegati più con calma e che possono produrre come il classico strumento delle curve insomma un'immagine oppure anche possiamo lasciarla un po' più aperta così secondo me e poi recuperare attraverso i neri un'immagine di questo tipo ecco vediamo velocemente il prima e il dopo ecco questi sono tutti gli strumenti che possono essere diciamo utilizzati in lightroom ma anche molto di più nel senso che se io per esempio come parlava Davide i cieli voglio avere degli effetti sui cieli un po' più intensi un po' più contrastati ecco che posso lavorare esclusivamente vedete nella parte superiore dell'immagine in maniera tale da ottenere l'effetto che desidero forse questo è un po' troppo esagerato vediamo di ridurne l'intensità eccolo qua un po' meno così e possiamo avere un un primo un dopo ovviamente ci sono anche poi degli strumenti di correzione locale che possono aiutare ad eliminare vedete questi effetti indesiderati o perlomeno attenuarli ecco sì questo era un po' la velocemente no una una prima idea di quello che può essere una una post-produzione come c'è una post-produzione che a volte serve a correggere questo per esempio è uno scatto che a me piaceva molto e per un errore molto banale avevo fatto tutta una serie di ritratti tra cui questo a tutta apertura e quindi poi quando ho visto la scena del surfista che si stava lanciando in acqua non mi sono più ricordato di chiudere praticamente il diaframma e me le sono ritrovate tutte molto sottoesposte però il potere appunto del digitale del file raw vedete permette di recuperare in maniera molto ma molto valida questa immagine anche se comunque mi piace così morbida cioè non andrei molto a renderla ecco diversa da quello che naturalmente è forse vediamo però questo è un vecchio obiettivo non credo di avere sì ecco qui per esempio ecco è sparita la vedete la vignettatura dell'obiettivo e quindi l'immagine è un po' più pulita anche se magari a qualcuno può piacere con la vignettatura se non addirittura andarla a accentuare come abbiamo fatto nell'immagine di prima dargli un po' più l'idea da sì da immagine post prodotta ecco io credo di avere usufruito del mio del mio tempo però se volete vado avanti anche le prossime tre ore ma credo di grazie grazie a voi spero di avervi fatto vedere un po' quello che sarà il software che andremo a a spiegare cioè io andrò a spiegare insomma se qualcuno di partecipanti sarà interessato ecco diciamo la cosa veramente interessante dell'integrazione di questi software è che ognuno è nato specificamente per uno scopo quindi Lightroom non è certo un'alternativa a Photoshop ma è semplicemente un software che che permette una gestione globale della prima di arrivare a necessità particolari di cui ci parla adesso Marco Petraccio perché lui mette le mani dentro a Photoshop quindi chiedo a Marco di condividere il suo schema e di cominciare a farci vedere un po' di cose su Photoshop beh a differenza di Lightroom Photoshop rimane molto più complesso si lavora molto con i numeri si lavora per risolvere i problemi per modificare eliminare tutto tutto sempre relativo in base alla nostra tra virgolette etica fotografica fin dove ci vogliamo spingere su certe cose bene io vi presento questa foto di paesaggio anche riallaccio quello che ha detto lui sui cieli e tutto questa è una foto uno scatto singolo buono uscito dalla macchina così una lunga esposizione un filtro da un erro 15 o 16 stop il cielo permetteva una singola esposizione calibrata per non perdere troppo nelle ombre per non perdere troppo nelle luci e non è passata in lo sviluppo di Lightroom e dobbiamo semplicemente andare a a vedere di che cosa ha bisogno questa foto ha bisogno di una correzione del colore ovvero un bilanciamento dei colori per farla più reale possibile per poi dopo andare in fase finale sul soggettivo ovvero gli diamo prima delle regolazioni oggettive ovvero canoniche dove il bianco è bianco il nero è nero e il grigio deve essere grigio in fase di post-professione avanzata si va sul soggettivo si va sulla parte più artistica a me piace che quel giallo del faro diventi più arancioni che il cielo un po' più colorato l'acqua un po' più verde eccetera eccetera ma queste sono tutte cose che poi nel corso avanzato si vedranno man mano quindi vi faccio semplicemente un esempio di quello che può essere un ritocco a un colore di questa fotografia andando subito nei vari strumenti di photoshop che ce ne sono migliaia andiamo subito a prendere una soglia come vedete l'immagine in bianco e nero molto grafica che ci permette di esaltare di andare ad esaltare subito i punti di nero ovvero dall'immagine bianca a sinistra mi sposto all'istogramma i primi punti che appaiono sono sicuro che sono punti neri con la mia pippettina nei vari strumenti di photoshop il mio campionatore colore mi permette di andare a segnarmi fino a 4 punti photoshop il mio punto di nero che lo riprenderemo dopo con i livelli curve naturalmente io parlo ma non mi spaventate con tutti questi termini perché poi dopo verranno spiegati uno a uno con calma e vado avanti dicendo che il punto di bianco me lo vado a prendere qua su in alto nelle nuvole come è là e adesso mi faccio anche un punto di grigio che è un pochino più complesso quindi mi tolgo la mia soglia mi adatto l'immagine allo schermo per vedere meglio e mi vado a creare mi vado a creare un livello vuoto che riempirò col mio colore di grigio e vi spiego anche perché adesso mentre lo faccio riempio di grigio e lo metto in un metodo di fusione di differenza perché questo perché il grigio è un 128 il grigio della foto è un 128 e vado a fare una differenza tra un grigio del livello 1 e il grigio della foto cioè i primi punti che escono in questa foto dalla mia soglia in questo caso i primi punti che escono saranno una differenza ovvero nera e sono certo che questo è un grigio me lo prendo e mi vado a eliminare i miei due livelli poi dopo torno un attimo indietro per spiegarvi un'altra cosa e magari i fondamenti un po' più più basilari di photoshop quindi adesso io ho un punto di nero un punto di bianco e un punto di grigio mi vado nella mia palette dei livelli di regolazioni prendo curve come posso prendere i valori tonali come posso prendere anche altre cose ma in questo caso diciamo che le curve sono quelle che lavorano meglio in assoluto sono le più versatili perché permettono delle dinamiche diverse e abbiamo tre cursori bianco grigio e nero mi prendo un bel cursore di grigio clicco sul grigio mi prendo un bel cursore di nero clicco sul nero un bel cursore di bianco clicco sul bianco come vedete cosa è successo nelle mie curve i vari colori della foto rosso verde blu ovvero canali perché la foto a colori è formata da tre canali rosso verde blu si sono spostati in base alle 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 istruzioni che gli ho dato io gli ho detto questo è un grigio questo è un bianco e questo è un nero e come vedete la foto si è bilanciata rispetto all'originale una cosa che permette photoshop a differenza di lightroom o non so se capture one lo fa ma penso di sì la luminosità vero? scindere luminosità col colore quindi anche capture one lo permette di giusto scindere la luminosità col colore perché? perché le curve aumentano il contrasto ma noi stiamo stiamo agendo sul colore quindi photoshop ha questa grande caratteristica come pochi programmi però ce l'hanno di ritoccare solo il colore o ritoccare solo la luminosità delle cose un contrasto dato in lightroom e dato in una maniera semplice con la palette di contrasto come anche in photoshop aumenterà la saturazione di una foto in questo caso noi con i livelli di diffusione andiamo ad agire solo sul colore e come vedete cambia solo il colore ma non la luminosità della foto questo diciamo che è una prima regolazione io vi faccio vedere una prova che magari adesso non si vede non si vede molto bene vado a sbilanciare un attimo questa foto con una curva sul verde diciamo che facciamo più Nikon che Canon questa 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 fotografia mi rimetto sulla mia pipettina di grigio e gli dico al programma guarda che quello è grigio e voilà eccola lì se vi portate a casa un'immagine del genere è semplicemente un bilanciamento del bianco che si fa anche in sviluppo raw però qua permette tante diverse regolazioni perché a questo punto la potenza di photoshop dove sta qui uno dice vabbè allora al bilanciamento del bianco ho la pipettina anche il lightroom lo faccio il lightroom la potenza di photoshop è nei livelli e nelle maschere in questo sistema che vedete che io uso livelli ovvero nice point livello più basso nice point copia curve e così via posso andare a creare livelli infiniti finché la ram me lo permette finché il computer me lo permette infiniti di regolazioni e non solo regolazioni di oggetti avanzati eccetera eccetera questo lo permette anche capture one in un sistema un po' più diverso che poi vedrete dopo adesso la potenzialità di questa cosa di correzione colore è che diciamo mettiamo un'ipotesi che a me la parte sotto mi interessava verde posso sempre dire ok il cielo mi va bene com'è ma la parte sotto verde la potenza di photoshop sta nelle maschere nell'agire e dire dove agire l'effetto o dove non farlo funzionare questo è il nostro gradiente bianco nero bianco lascia passare il nero blocca l'effetto ecco fatto quindi dove questa maschera è bianca avrò l'effetto correzione colore dove questa maschera è nera non lo tocca minimamente senza maschera con la maschera quindi torniamo un attimo indietro così mi posiziono per fare un'altra cosetta carinissima che si chiama in gergo riallocazione della luminosità sono dei piccoli trucchetti che permettono di schiarire le zone scure e scurire le zone chiare mi creo una bella risultante cioè il livello 1 non è altro che una copia dei due livelli fusi sopra sul livello 1 e mi faccio un filtro sfocatura controllo sfocatura bella ampia e voilà metto tutto in bianco e nero e lo inverto come vedete ho riallocato poi se è troppo abbiamo le tolleranze di opacità ho riallocato la mia luminosità cioè non sono andato attenzione qua io non sono andato ad aprire l'esposizione di una fotografia creando rumore ho semplicemente ingannato il software perché le informazioni ci sono dentro come vedete non c'è rumore c'è aberrazione cromatica quella tantissima ma quello è un problema di obiettivo ho ingannato il software e questa è anche una delle potenze ho creato la mia immagine piatta ho ricreato un'immagine più piatta che mi permette più intervento adesso è come un intervento con un contrasto localizzato con una sempre un livello di regolazione curve e andrò a farmi un mio prendo una zona che voglio scurire prendo una zona che voglio schiarire e vado ad esaltare la tridimensionalità della mia foto rispetto rispetto a quella sotto questa è l'originale di partenza questo è il contrasto più adatto lascio creo una tridimensionalità che difficilmente si crea con un lightroom a meno che non spingere troppo di chiarezza o di rimozione foschia che non fa altro che questa cosa qui le micro regolazioni però in maniera più invasiva qua si lavora non invasivo passiamo a un altro tipo di fotografia ben diversa da questa e prendiamo un ritratto ok prendiamo la nostra parlando di fotoritocco in questo caso visto Davide qua ce ne sono ce ne è parecchio di fotoritocco come vedete dal morphing del viso della modella all'eliminazione dei capelli superflui volendo potrei cambiare le unghie il colore delle unghie se abbiamo bisogno di un'unghia rossa si fa un'unghia rossa ok allora andrei a vedere andrei a vedere subito una separazione delle frequenze in gergo non è altro che una pelle liscia come va di moda come tutti vogliono però con attenzione con texture con professionalità quindi sempre con il nostro uso dei livelli sempre con gli strumenti ops ho schiacciato qualcosa così sempre con gli strumenti filtri andiamo a creare una separazione delle frequenze la separazione delle frequenze perché non va più ok si fa separando la texture ovvero tutto quello che vedete di imperfezione della pelle lentigini rilievo esatto rilievo la parola giusta separandola dalla luminosità alla fine e lo facciamo con i filtri di photoshop che possono essere filtri artistici o non ma se usati con i vari metodi di diffusione tutto tutto cambia quindi noi andiamo a creare subito un filtro sfocatura superficie raggio e soglia sono due strumenti che si usano con parsimonia e anche in base alla risoluzione della fotografia in questa foto è stata scalata a 2000 pixel perciò uso dei raggi bassi ricordate tutto quello che dico non è mai una ricetta non è che uno prende e fa così perché 13 di raggio 33 di soglia no bisogna capire il concetto per poi riadattarlo alle vostre foto o alla vostra prospoduzione in generale quindi diciamo che un effetto del genere liscio ci va più che bene gli diamo ok e abbiamo la nostra pelle che vedete liscia in realtà è una sfocatura per forza è liscia dobbiamo mascherare questa pelle con il nostro pennello bianco su uno sfondo nero andiamo a pennellare là dove vogliamo grossolonamente senza problemi là dove vogliamo avere il nostro effetto di pelle morbida sto facendo molto ma molto veloce il collo glielo lasciamo stare oggi facendo questo effetto noi abbiamo questa maschera abbiamo l'effetto che funziona solo dove poi la maschera è bianca me lo ritocco un pochino me lo sfoco anche un pochino con doppio clic possiamo entrare nelle proprietà delle maschere o di qualsiasi altra cosa torno sulla mia sfocatura e vado semplicemente a rimettere una texture sopra riattivo una copia del livello zero che ho fatto prima da questo faccio un accento a passaggio che non è nè altro che uno strumento che tira fuori davvero tanta tanta problematica della foto ma noi lo usiamo a nostro piacimento per tirar fuori la texture come vedete la texture della fotografia è a colori io me lo passo in bianco e nero per varie posterizzazioni e me lo metto in luce soffusa che perché luce soffusa perché come vedete l'immagine è grigia la sovrappone e la soffusa sono metodi di diffusione che mi annullano l'effetto del grigio quindi mi risalta tutto quello che è più chiaro o più scuro del grigio il grigio al 50% che sarebbe un 128 come vedete qua sui numerini accanto 127 128 io prendo il numerino qua 128 questo viene annullato dall'effetto dei sovrapponi adesso ho la mia pelle che è leggermente diversa posso andare a usare intanto mi copio una maschera di sopra perché voglio che l'effetto di questo che è texture mi agisca soltanto dove ho fatto l'effetto sfocatura qua posso andarmi a creare delle opacità sbassare l'opacità se in caso l'effetto di sfocatura è troppo o poco naturalmente uno dosa le cose come vuole ma penso che poi sta al buon gusto non spiattellare troppo una fotografia o altro niente dico soltanto due cose è uno strumento bello bello che dà tanti spunti non c'è una strada sola per arrivare al risultato finale ci sono mille strade e non è detto che anche per foto simili si debba usare la stessa strada ogni foto è a sé ogni post produzione è a sé bisogna sempre usare l'occhio l'etica io la chiamo etica ma a fine aveva ragione Umberto non è proprio etica è un gusto un gusto fotografico può sfociare nell'etica sì chiaramente e che dire enjoy grazie Marco dunque passiamo a Umberto allora Umberto è un esperto di aiuto scusate l'immagine che vedete Umberto sta lavorando su degli scatti che abbiamo appena fatto in tithering nella zona 7 e ci fa vedere quello che può fare Capture One allora a parte che dopo quando riprendo la linea che faremo qualche scatto in tithering vi spiegherò un pochettino il mio flusso di lavoro io sono un pochettino vecchio a scuola quindi tendo a portare a casa cercare in fase di scatto cercare di portare a casa il miglior il miglior risultato possibile per lasciare meno lavoro alla post-produzione non per motivi etici o altro perché sono dell'idea che dipende dal lavoro che devi fare dal prodotto che devi consegnare dal cliente eccetera può richiedere più o meno post-produzione lo scatto può essere più o meno reale sulla base di quello che hai detto poi tu prima Davide diciamo che poi ciascuno di noi ha un proprio stile per i progetti personali magari per quanto mi riguarda quanto meno evito il composite cerco a livello cromatico a livello di quadrature tutto di come dicevo prima di avere il miglior di arrivare il più vicino possibile all'immagine che comunque avevo nella mia la mia testa per farvi vedere un attimo un esempio non dico necessariamente più carino di Davide però non più tardi qualche di qualche giorno fa ho fatto questo questo scatto che quello che vedete è assolutamente non non post-prodotto quindi come è uscito dalla macchina volumetriche tonalità eccetera è tutto gestito in fase di scatto poi il lavoro che farò su questa immagine sarà di post-produzione sarà sicuramente importante ma magari non di di composite non prenderò pezzi qua e là da altri scatti ma cercherò semplicemente di rafforzare ciò che avevo già pensato o gestito in fase di scatto vuol dire a tutti che da un composite per un struttore che forse non potrebbero sapere ma tu prima hai fatto degli esempi di composite il composite può essere come era ai tempi la sovrapposizione di più negativi abbiamo parlato di 16 negativi 32 scusami quindi più scatti fatti in momenti la multiesposizione è una forma di composite se vuoi già in fase di scatto in post-produzione c'è appunto multiscatto più negativi piuttosto che più file a volte per esigenze se stiamo parlando magari di una pubblicità che per carità non vuole falsare come magari anni fa si tendeva a esagerare un po' quando si parlava del tema della bellezza eccetera a volte magari c'è semplicemente guarda la foto è perfetta ma quel braccio è messo male piuttosto che copre un elemento importante che in un altro scatto che nel complesso era inferiore a livello di qualità però andava bene quindi prendi quel braccio lì e lo metti là eccetera non è ripeto qua non c'è un giusto e sbagliato c'è un fine ultimo sì per carità può essere si sfocia a volte in questione di etica dipende ci sono tanti livelli comunque quello è un composite prendere un pezzo metterlo da un'altra parte più foto o soltanto anche dei pezzettini e basta beh Davide adesso tu ti divertirai con me perché ho l'onore di poterti ritrarre allora intanto vi faccio vedere un secondo grazie Marco per aver anticipato alcuni concetti fondamentali di Capture One che ripeto Capture One non deve essere considerato come un software di sostituzione a Photoshop ma neanche l'iPhone perché poi è una questione anche di preferenze insomma dove ci sentiamo più a nostro agio eccetera ma soprattutto con con Photoshop perché secondo me sono due software che devono collaborare ok cioè sono Capture One probabilmente è un primo step per poi chiudere l'immagine con Photoshop questo sempre ove necessario per quanto mi riguarda come dicevo prima nel in fase di scatto io cerco di avere il miglior risultato possibile per dover anche per una questione mia di soddisfazione personale dire ok questa cosa non ho dovuto sistemarla con Capture One più da stagione Photoshop e a mio avviso Capture One è un software molto molto potente il suo punto di forza è un po' il colore tu prima giustamente Marco hai evidenziato un po' il discorso delle curve che quando aumenti il contrasto o anche lo slider del contrasto stesso comunque vanno a si riflettono un po' anche sul colore Capture One ha questa funzione nel settore delle curve di andare a ritoccare soltanto la luminosità dell'immagine quindi quello che Capture One chiama luma un altro tassello importante di Capture One per me è la possibilità di scattare in modo molto efficace e sicuro in tithering in tithering cosa vuol dire collegare la macchina fotografica probabilmente se Simone passate anche a questa telecamera qua vedete che io ho la telecamera la fotocamera collegata con un cavo a Capture One di solito quando non funziona è il problema del cavo ma non di Capture One perché in tithering perché siccome i miei scatti a volte sono chiaramente dove mi è permesso dove ho modo di farlo per questioni climatiche piuttosto che di tempo piuttosto che di spazio eccetera i miei scatti a volte sono un po' un po' complessi e poter valutare subito su uno schermo più grande la resa dello scatto vedere già dove sto andando piuttosto che l'LCD della fotocamera per me è molto molto importante ma non solo in questo caso io prima abbiamo fatto delle prove con Davide abbiamo messo la fotocamera sul cavalletto è collegata io posso attivare un quello che si chiama il live view in sostanza voi vedete lo vedete tutti ok e live view per carità ce l'hanno un po' tutti i software poi ci sono anche i software proprio nativi della fotocamera che mi permettono di fare questa cosa diciamo che avere tutto all'interno di Capture One per me è una una grande comodità ma non solo se siamo in posizioni di scatto scomodo magari still live dove la fotocamera su in alto poter controllare tutto dal computer soprattutto la messa a fuoco per me è un un grande punto di forza un plus valore chiamiamolo perché posso andare anche oltre i punti di messa a fuoco della fotocamera adesso con i mirrorless sono vastissimi puoi andare a prendere veramente gli angolini eccetera una di 810 a 51 punti se non sbaglio e magari a volte mi ritrovo il mio l'elemento che devo mettere a fuoco fuori da questi punti quindi dovrei mettere a fuoco ricomporre poi scattare e in certe situazioni ricomporre può essere un problema soprattutto se dobbiamo fare più più scatti quindi attivo il mio live view zoom dove voglio per dire se volessi andare sulle mani di Davide Davide stai fermo andiamo sull'anello fermo lì se volessi mettere a fuoco il suo anello chiaramente la macchina ha bisogno di un po' di contrasto guardate non so se si vede anche tramite lo share ma è pazzesco adesso faccio uno scatto così proprio di prova fermo lì è un po' lento oggi non so perché forse vedete che è inchiodato lì in fuoco ok e adesso chiaramente qua la sua mano sto scattando F8 e il viso sono più o meno sullo stesso piano io poi sono abbastanza un maniaco della messa a fuoco quindi per me deve essere bella incisa infatti l'altro giorno quando facevamo questi scatti i miei poveri modelli tutto il focus era su su di lei ragazzi è leggermente morbida quindi dobbiamo rifarla e quindi mi odiano però ecco utilizzare il tithering e il live view di Capture One diciamo compensa la mia lentezza naturale ok altra altra funzione molto importante è che lo scatto l'ultimo scatto si porta a dire le impostazioni dell'immagine dello scatto precedente quindi se ho fatto delle regolazioni posso non devo riapplicarle o in una seconda fase quando torno in studio dover incolla eccetera eccetera copia incolla tutte le impostazioni ma ce le ho già perché regolo la prima immagine e vado poi chiaramente non tiene conto delle cioè anzi si porta dietro anche le maschere però le maschere il mio soggetto si sposta chiaramente quelle le perdo diciamo che in una fase di scatto ho delle regolazioni di base che possono essere un po' di contrasto piuttosto che il bilanciamento del bianco piuttosto che se stiamo facendo foto di interni raddrizzare le verticali eccetera eccetera ora per farlo un pochettino breve questo è lo scatto di Davide che abbiamo fatto prima adesso ne facciamo un altro dove magari ci sorridi e con con Capture One senza passare a Photoshop eccetera ho l'ho postrodotto adesso proprio velocemente con con dei risultati secondo me ottimi lavorando su appunto passo al viewer scusate su Capture One la possibilità di lavorare con i livelli con le maschere diversi tipi di maschere c'è la classica maschera con con il pennello per intenderci non so se mi fa vedere la maschera non ce la fa vedere chissà perché ok questo adesso poi vi faccio vedere la maschera della pelle ha la possibilità c'è il pennello clone e il il pennello ripara credo che significa in italiano il healing che vi permette di fare con il clone come un Photoshop clonare piuttosto che riparare determinate determinate zone adesso io volevo farvi vedere eccola qua la maschera abbiamo Shrek o Hulk se riferite quindi come dicevo possiamo avere delle maschere fatte a mano delle maschere creando un nuovo livello di regolazione che sono a riempimento piuttosto che dei gradienti piuttosto che delle maschere basate sulla luminosità dell'immagine e quella è molto molto utile quando appunto magari avete dei fare delle luci delle volumente eccetera e volete lavorare soltanto su quelle senza andare a pennellare che magari è un po' meno naturale rispetto a cogliere la luminosità dell'immagine stessa comunque punto forte di Capture One come dicevo prima è il colore soprattutto l'elettronalità della pelle adesso che vi permette di campionare vi faccio vedere questo slider color editor io ho selezionato un punto che ritenevo chiaramente ho fatto una post produzione abbastanza sommaria e veloce che ritengo una tonalità che ritengo più vicina a quella che voglio ottenere insomma quindi più giusta chiamiamola così e ho uniformato il resto con questi slider quindi lavorando uniforme la tonalità uniforme la saturazione e la luminosità di solito la lascio stare perché se dovessi aprire la luminosità vedete che spiattello un po' la mia immaglia poi magari è necessario farlo per carità però noi abbiamo scelto una luce un pochettino più passatemi il termine drammatica e quindi aprire successivamente le ombre soltanto su toni della pelle mi sembra mi sembra sbagliato però facciamo una prova veloce così vedete i vari bottoni quindi come dicevo prima io posso facciamo uno scatto adesso vado in in manuale chiamiamola così Davide regalarci la tua migliore espressione leggermente più di profilo a me se puoi appena appena ok un po' più verso la luce quindi vai col viso in là vieni a me piano 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 ok guardami no non muoverei guardami solo con gli occhi torna di là adesso guardami con gli occhi ok vieni leggermente con il naso a me stop bravissimo sta un po' più dritto poi mi dice ah si vede la pancia si vede qualcosa lì bravo sorridi un po' con gli occhi facci vedere un bel sorriso con gli occhi ecco hai strizzato di nuovo vedete che nel frattempo appaiono le immagini sullo schermo un po' lento sorridi con gli occhi eccolo lì ok mi sono dovuto abbassare la mascherina adesso che l'ho inquadrato un po' male comunque ognuno di noi ha un proprio un proprio flusso di lavoro un pro io mi parto con delle regolazioni base allora innanzitutto con Capture One abbiamo vedete io ho due due schermate quella che vedo un attimo viene chiamata il browser dove praticamente avete delle dei pannelli diciamo base diciamo degli strumenti potete sistemarli l'area è assolutamente personalizzabile sulla base di come lavorate di come ragionate eccetera e poi ha una seconda finestra che si chiama Viewer dove praticamente il browser viene scartato e vi concentrate più che proprio una volta scelta la vostra immagine vi concentrate sulla post-produzione quindi io mi sono diciamo personalizzato l'area di lavoro mettendo gli strumenti potete spostarli e adesso vi farò vedere un paio di esempi comunque regolazioni base soprattutto colore poi magari ingrandirò sappiamo che posso regolare come in Lightroom l'esposizione il contrasto il contrasto abbiamo visto che va a si ripercuote anche sulla sulla saturazione dell'immagine sui colori la brightness scusate io ho Capture One in inglese perché ho il con tutto in posto in inglese però chiaramente invece la sua versione italiana Lightness sarebbe la luminosità ed è quella che lavora più che altro sui toni medi non sulle alte luci o sulle ombre e poi ho il pannello che viene chiamato High Dynamic Range quello del famoso HDR cioè dove posso lavorare soltanto su abbassare un pochettino le alte luci e aprire un po' le ombre se necessario i bianchi e i neri ma adesso per andare un po' veloce quello che diceva prima Marco il mio pannello curve che posso anche prendere tirarmelo fuori e ingrandirlo per un lavoro di fino il mio pannello curve ha sia i canali il rosso il verde e blu l'RGB il composito ma anche soltanto il luma cioè il luma quindi io andrò a selezionare dei punti che magari voglio ottenere fermi insomma non voglio che vengano aperti o chiusi andare invece magari a selezionare le ombre scendere un po' creare una leggera curva vedete che i colori comunque non ne risentono lavorate soltanto sulla luminosità della mia immagine posso adesso veramente sto facendo una cosa proprio veloce veloce prima avete visto uno sfondo diverso un po' più menta che cosa posso prima di passare allo skin tone cioè quello che mi permette di uniformare tonalità della pelle posso andare a vedere gli slider il color editor base che mi da già dei campioni di colore piuttosto che quello avanzato dove io posso con il contagocce andare a selezionare questo sfondo vedete mi fa vedere la zona selezionata io posso dirgli ok mostrami mi fa vedere in bianco e nero quello che ha selezionato adesso vedete sicuramente la pelle non è non non ne risente la pelle adesso questo sfondo è un po' desaturato quindi è un po' difficile da vederlo soprattutto immagino sul web comunque cosa faccio disattivo cambio la tonalità faccio un viraggio lo voglio riprendere di nuovo cambio la tonalità magari aumenta la saturazione se uso la penna magari faccio un po' meno fatica lo riprendo posso andare avanti all'infinito veramente però vedete già come si è cambiato il tono di sfondo ok vi faccio vedere un prima e un dopo è una bella è una bella differenza ok questo è lo sfondo vado a passo posso anche pulirmi il mio sfondo ve lo faccio vedere con un attimo che ho questo pannello che mi dà fastidio livelli nel momento in cui prendo potenzialmente io voglio poter cancellare vedete che in automatico mi crea un nuovo livello di healing sanifica non mi viene Marco come traduce healing in italiano ricordo del healing brush quello che al posto non quello che fa da clone ma quello che è tipo cerotto sì tanto è che l'icona è quella di un cerotto ok vedete che ho rimosso tutta una serie di imperfezioni dello sfondo per potenzialmente pulirlo ora posso crearmi un nuovo livello gli dico già di farlo con un livello pieno quindi con già una maschera attivata vedete è tutta verde quindi qualsiasi cosa che faccia si ripercuota su tutte le immagini però siccome andrò nel mio color editor vado su skin tones quando io seleziono queste non questo punto perdono andiamo a selezionare un punto giusto magari un po' meno saturo potrebbe essere qui sul naso posso intervenire su questo tono questo puntino è il tono che ho scelto magari lo desaturo un pelo ok e uniformare il resto quindi il resto del viso del resto della tonalità sulla stessa tonalità di quello campionato anche a livello di saturazione sto veramente qui andrebbe fatto un lavoro di fino per carità però vedete una bella differenza ora qui poi che cosa farei normalmente anche perché lui per carità non le tonalità della pelle non qui non non ci sono toni vicini al tono della pelle che possono magari se lui avesse una camicia una giacca ok di quel tono lì chiaramente questo siccome il mio livello di regolazione è globale cioè su tutta l'immagine si ripercuoterebbe chiaramente anche sulla sua camicia quindi normalmente che cosa fai una volta che hai fatto questa regolazione o anche prima torno ai miei livelli gli dico di inverti la maschera oppure clear mask se schiaccio M vedete che non c'è nessuna maschera attiva prendo il mio pennello grande e inizio senza stare neanche troppo attento vedete al bordo qua della mascherina perché tanto so che quel tono che ho selezionato non è presente sulla mascherina che cosa triste dover parlare delle mascherine la realtà è questa l'attuale realtà quindi non trasformo Davide in Shrek o Hulk scegliete voi il soggetto semplicemente di base chi usa caption dice ma io la maschera ce l'ho ce l'ho rossa è una cosa che potete personalizzare per me la maschera rossa è scomoda perché mi è capitato di doverer ritoccare degli elementi rossi e non vedevo bene la mia maschera ovviamente questo verde così acceso è un pochino più difficile trovarlo nei toni naturali di una foto qui si lavora anche qui veramente posso andare giù pesante senza stare attento al ah c'è una cosa ecco vi faccio vedere questo ci sono anche le le maschere le pennellate adesso cancello questo pezzo qua capture one è in grado di rilevare il contrasto nel momento in cui dico auto maschera funziona non funziona vediamo se crea un contorno vediamo se lo prende ecco sta calcolando la maschera adesso dovrebbe cambiare questo questo bordo credo che con il discorso della diretta vedete che è cambiato questo lui ha già visto ha riconosciuto il contrasto la differenza di tono e quindi è andato ad ottimizzare la mia maschera ora non lo sto veramente entrando nei dettagli si possono le maschere sono veramente veramente molto flessibili in capture one ci sono un sacco di strumenti per ottimizzarle ma non è questo il momento la mia maschera posso attivare disattivare il livello vedete già una differenza in saturazione e in tonalità ok e questa è una cosa chiaramente con con un'altra maschera potrei fare un lavoro di con più maschere con più livelli di regolazione potrei fare un lavoro di schermo e brucia anche lì senza preoccuparmi delle tonalità perché semplicemente potrei creare delle curve di luma e basta ora potremmo andare veramente avanti ore con giorni mesi tutto quello che volete ma non è sicuramente lo scopo di questa di questa serata magari vi faccio vedere ancora un paio di cosini per aprire adesso io sono tornato sul livello sfondo magari apro un po' di più le ombre senza esagerare ma in poco tempo comunque siamo passati da questo a questo ok oppure se torno nel browser di prima qua ci avrò lavorato un pochettino di più vedete e poi un'ultima cosa che secondo me è nota cioè vale la pena nominare o presentare sono le quelle che chiamano ricette di esportazione cioè io posso crearmi dei presetaggi di esportazione che possono essere dei jpeg possono essere dei psd dei tif eccetera in vari anche posso esportare anche in cmk piuttosto che in rgb e passare per esempio a potrei esportarmi un quello che normalmente faccio quando ritocco le foto i ritratti faccio tutta la mia post produzione in capture one quando poi devo andare a fare un lavoro di fino magari sul ritocco della pelle eccetera mi esporto da capture one una versione del file in psd senza aver applicato il filtro di nitidezza e magari di chiarezza e poi l'altra struttura eccetera perché mi crea comunque va a creare del contrasto a livello proprio di pixel minuscolo e creare magari degli artefatti dove se c'è dei punti neri per dire con quelle con quelle maschere non andrei altro che accentuarli per poi doverli rimuovere in photoshop quindi che cosa faccio io esporto un file psd con tutte le impostazioni che voglio gli dico non applicare alcun filtro di nitidezza vado in photoshop faccio la post produzione che devo fare del ritocco della pelle torno in capture one e finalizzo il file magari con dei viraggi di colore e poi applicando la nitidezza richiesta sulla base del file di output cioè il tipo di stampa che devo fare le dimensioni eccetera eccetera o se devo andare se è un'immagine che va su instagram avrà un certo tipo di nitidezza se è un'immagine che va in stampa ne ha un'altra in base alla risoluzione questo è quanto non so se volete approfondire qualche altro argomento ma non penso allora dunque intanto ringrazio Umberto per la foto che mi mi passerà poi dopo il morphing punch ovviamente se no non la voglio quindi grazie abbiamo approfondito sicuramente adesso poi Simone ci dovrà dire qualcosa perché chiaramente noi siamo qua per lavorare e Simone ci racconterà su cosa lavoreremo prossimamente però detto questo volevo chiedere a tutti quanti se avete domande di farle sia in chat chiedo anche a Francesca se ci fosse qualche cosa di cui parlare che mi fosse sfuggito nel frattempo fosse sfuggito a Marco e Umberto e per gli altri possono attivare il microfono tranquillamente e fare domande in modo moderato ed educato perché siamo in tanti se no succede un patatrac e basta vi lascio un attimo a Simone che sicuramente ci deve dire qualcosa sì allora tanto buonasera mi presento sono Simone referente dei corsi di post produzione per quest'anno di spazi fotografici e niente noi in quest'anno abbiamo deciso di attivare quattro corsi che appunto andranno ad affrontare i tre programmi principali di foto editing di questi ultimi anni Lightroom, Capture One e Photoshop sicuramente qualcuno ha detto come mai quattro corsi da tre programmi bene il primo corso che partirà sarà quello di Lightroom con Giuseppe Andretta in otto lezioni tutte online ogni lunedì dalle 20.30 alle 22.30 ne approfitto per ricordarvi che in questi giorni il corso è ancora in sconto a 195 euro anziché 125 euro e sui Adopt Lightroom partiranno i corsi di Capture One che terrà Umberto Zappa e i due corsi di Photoshop un corso di Photoshop base che terrà Cristina Fumagalli e un corso di Photoshop avanzato che terrà invece Marco Petracci per maggiori informazioni non esitiate a contattarci o a visitare il nostro sito per poter vedere tutti i programmi che sono scaricabili e consultabili inoltre concludo ringraziando Fotoema ancora una volta e ricordo che c'è uno sconto per tutti i partecipanti che adesso Francesca copierà nella chat così che non verrà perso all'interno del talk che darà diritto a un 3% di sconto più la spedizione gratuita per i prodotti legati alla postproduzione venduti da Fotoema per l'appunto e lascio la parola a eventuali domande per il talk che inizieremo tra pochissimo c'era qualcuno che chiedeva una specie di comparazione tra catalogo e sessione ok no parlavo di un'altra cosa ma mi hanno pescato una domanda quindi sicuramente Umberto è quello che deve rispondere qua ho l'audio sì no ti sentiamo sì sì ok la differenza tra una sessione e un catalogo allora una sessione detto proprio brevemente una sessione ed è quella che io uso normalmente è un'unica immaginiamoci un'unica cartella con il file di sistema di Capture One con è associato poi una serie di cartelli che sono quella di importazione quella di esportazione e il il cestino e è come se fosse cioè immaginiamo uno shooting una sessione ok mentre un catalogo se ad esempio io uso un catalogo in pochissimi casi però ad esempio per un cliente devo fotografare i suoi prodotti sono vanno fatti campionari più volte all'anno non sto a crearmi una sessione per ogni campionario ma faccio un catalogo cioè una sorta di raccoglitore di più cartelle che sono sparse potenzialmente anche su più dischi quindi se un disco non è collegato io vedrò comunque le immagini potrò fare delle regolazioni su quelle immagini lì ma verranno applicate poi sul file definitivo per l'esportazione nel momento in cui collego il disco quindi il catalogo è un cervello centrale che fa riferimento a più cartelle sparse a più progetti eventualmente poi ci sono tutta una serie di filtri posso creare delle cartelle smart cioè dove gli dico prendi tutte le immagini che hanno che sono flagate di rosso e le va a prendere da tutte le cartelle che sono dentro questo catalogo mentre la sessione è una cosa un pochettino più ristretta più chiusa quindi io siccome i miei sui principalmente sono un progetto un servizio uso le sessioni grazie Umberto io prima mi riferivo al fatto che Claudio chiedeva una specie di comparazione tra Lightroom e Capture One scattando in remoto e chiedeva se su Lightroom si possa fare la stessa cosa della ricerca del fuoco automatica io ho detto a memoria e per esperienza direi di no poi Capture One scusatemi Lightroom non lo uso da ormai diversi anni e quindi non so come 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 si sia evoluto però secondo me Giuseppe ci può aiutare all'epoca era possibile soltanto credo su allora non credo anche con Capture One in realtà ci sono c'è un elenco di macchine che sono che sono supportate che è molto ampio come elenco però Giuseppe sostienici no no allora io a parte che Lightroom secondo me è proprio da evitare con il Tedring shooting concordo non lo uso in questo senso da mesi non so se abbiano fatto degli aggiornamenti però l'ultima volta che io l'ho provato non non aveva la capacità di riconoscimento del fuoco dei punti di messa a fuoco quindi direi di no insomma ecco grazie qualcun altro che ha bisogno di domande altrimenti da mi sentite Francesca sì no siccome Giuseppe è quello che sicuramente va via prima se qualcuno ha domande per lui o su Lightroom o sul corso su quello che fa il suo laboratorio di stampa si chiama Fine Art Connection ora vi metto il link se qualcuno ha domande per Giuseppe forse diamo la priorità a lui per il resto io colgo l'occasione per dire che Giuseppe è sicuramente uno dei più grandi esperti di stampa che abbiamo in Italia dai non esageriamo però sicuramente è uno dei suoi grandi cavalli di battaglia l'ho sentito l'ho sentito spesso raccontare aneddoti esilaranti non è vero non ti tirare giù diccelo appassionato appassionato di stampa come di fotografia quello sì perché ci sono tantissimi insomma credo che ci siano tantissime persone appassionate di fotografia a cui la stampa soprattutto adesso non era il digitale non gliene frega più una mazza e quindi non stampano praticamente mai io invece sono partito ovviamente molto prima del digitale perché sono vecchio e la stampa era l'ovvia conseguenza dello scatto in negativo a parte quelle rare volte in cui scattavi in via positiva e quindi c'era tutto un altro modo di godere l'immagine però l'avvento del digitale ha portato l'annullamento secondo me o quasi della stampa e invece io da appassionato appunto ho continuato e c'è un bel c'è un bel parco giochi anche dietro il mondo della stampa digitale a dire la verità Vido e Sorgito è vero concordo Giuseppe sentire stavo guardando stavo guardando se c'erano domande per me comunque no è bello è bello posso fare una domanda? certo che versione usi di Lightroom l'ultima? sì l'ultima ultima 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 te lo sto dicendo aspetta che se riesco a trovare Lightroom informazioni Giuseppe scusa se ti chiedo perché ho visto che quando apri il pennello dove ti esce poi la release 9.4 io ho appena letto adesso allora c'hai quella linea dove sui pennelli quando dove c'è praticamente le varie tonalità è giusto? sì ok io l'hai attivato o esce già così? quali intendi esattamente? allora io su Lightroom dove c'hai solo la io c'ho solo la saturazione la barra della tonalità sì 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 quella è l'ultima versione la penultima versione sì sì è uscita e quella è una grande cosa sì è uno strumento utile diciamo che un po' alla volta sì aiuta aiuta tutto ok sicuramente tutto qua ok Dorato chiede hai trovato la stessa funzione di anteprima immagine di Capture One cosa vuol dire anteprima immagine di Capture One accendi pure il microfono ah ok il live view nel senso che con la fotocamera connessa intende donato credo sì però è un'attività che io escluderei di fare con Lightroom ripeto il live view tethering shooting e tutte queste cose qui non no ma credo che anche Adobe non gliene freghi molto di implementare io non sento lui ma sto leggendo qua sotto secondo me ci sono delle cose che non ho le cuffie è giusto riconoscere in maniera imparziale perché non credo che né io né i miei colleghi guadagniamo dei soldi sulla vendita delle licenze di Capture One o di Photoshop ci sono delle cose sulle quali ovviamente un utente deve avere l'interesse principale per scegliere un determinato software piuttosto che un altro cioè il fatto per esempio che Capture One abbia quella meravigliosa funzione dei livelli abbia delle maschere molto più complesse di quelle che può creare Lightroom per esempio è una funzione che probabilmente nemmeno Adobe e gli ingegneri hanno l'intenzione di sviluppare e di implementare altrimenti l'avrebbero già fatto ma perché perché Adobe ha anche Photoshop con tutta l'integrazione che c'è Lightroom con Photoshop quindi se da una parte è bello che sia così perché c'è una competizione c'è un Capture One che da un punto di vista diciamo di sviluppo del file RAW è a degli ottimi livelli e ha degli strumenti all'interno sempre dello sviluppo del file RAW altrettanto più prestanti è giusto che sia così insomma poi magari un utente medio che ha bisogno di determinate cose magari meno professionalità ecco da un punto di vista del software con Lightroom si trova benissimo e magari non usa nemmeno neanche Photoshop credo questo insomma Giuseppe forse qualche ancora una domanda quali sono sì allora i principali vantaggi e le differenze di Lightroom rispetto alla combinazione Bridge più Camera RAW è che Bridge più Camera RAW sostanzialmente sono una combinazione che potremmo identificarla come ecco visto che parlavamo di Capture One come la sola sessione no anche se Capture One la fa in maniera più complessa cioè depositando già in cartello un catalogo però ecco Lightroom da solo invece è sempre un catalogo cioè lui non può funzionare come sessione funziona sempre come un catalogo e di conseguenza tiene traccia di tutti i cambiamenti tiene traccia della storia ha tutta una serie di funzioni non che diciamo Bridge non abbiano nel mondo Adobe ma sostanzialmente Bridge è un pezzo Camera RAW è un altro pezzo in Lightroom c'è una combinata dei due che si chiamano libreria e sviluppo più tutta una serie di funzioni che sono diciamo esclusiva dei software concepiti come database e non come browser il Bridge è sostanzialmente un browser di cartelle ecco credo di aver risposto hai risposto stella ringrazia e Claudio Lombardo naturalmente questione di abitudine ma difficile creare un'interfaccia utente per quanto personalizzare ma sono user friendly di Photoshop gli sviluppatori di Caution sono riusciti a farlo francamente dalle prime regolazioni di base su Lightroom e poi passare lo scatto su Photoshop per le regolazioni più avanzate dal mio punto di vista e sono solo un foto amatore un solo scusate un amatore non ha rivali considerazione beh qui si aprirebbero eh sì è una questione di abitudine io insomma sono un sostenitore di questo nel senso che uno impazzisce se dovesse andare in cerca del software perfetto perché il software perfetto non esiste ci sono dei software che fanno determinate funzioni chi ne fa di più chi ne fa meglio insomma si possa si possa andare attraverso sia Lightroom e Photoshop sia attraverso Capture One secondo me i due software poi dipende molto dal tipo di lavoro che si fa la fotografia ragazzi è eterogenea e oggi se uno fa moda o fa beauty non può non usare Photoshop se uno fa reportage può tranquillamente usare semplicemente Lightroom o semplicemente Capture One senza dover fare chissà che tipo di interventi quindi è in funzione di quello che uno fotografa e di quello che uno alla fine vuole tirare fuori delle proprie immagini insomma ok grazie Giuseppe prego dunque abbiamo fatto la boa della seconda ora abbiamo praticamente girato abbiamo fatto tardi spero non annoiando nessuno non lo so io comincerei a tirare le fila un po' della serata sì io se vi permettete vi saluto già e che domani mattina ho l'alzataccia prestissimo e quindi bene ti permettiamo ringrazio tutti di aver partecipato visto che eravate veramente molto numerosi e sì spero anch'io di non aver detto grandi cazzate insomma ma di avervi tenuto a compagnia un po' a chiacchierare va bene grazie Giuseppe grazie a voi ciao anche a voi ciao ciao Francesca sta dicendo qualcosa no ho salutato Giuseppe volevo dire che l'ha detto anche Simo mi pare che per gli interessati al corso di Lightroom la promozione scade domani e e poi prima di farti tirare le fila appunto se c'è qualche domanda per Umberto e Marco sì e non lo so perché cioè sono io che ho dirottato il nostro Giuseppe Don Gemban Claudio Lombardo ci riprova e lo accontentiamo per chi era non mi ricordo se era per Marco o per o per Umberto era per Marco forse Marco concediamo quanto un minuto e cinque secondi un minuto e cinque secondi dai dieci dai vai chi crolla può andare senza salutare per gli altri abbiamo una seconda sessione con Marco Petracci diciamo che tu la usi spesso vabbè ho detto una cazzata io non so io non la uso da pensi da scusate nessuno ha sentito da cosa parte la chiacchiera Marco ha esordito a microfono spento a Dodge & Bar non si usa quasi aperta risposta io la uso in continuazione la tavoletta grafica uso le maschere in luminosità e quindi non mi mi servono queste cose comunque il Dodge & Bar non è altro che per chi non lo sapesse ha fatto la domanda Claudio uno scurire o schiarire una determinata zona in base alla luminosità alterando la luminosità in Photoshop ci sono tantissimi modi per farlo direttamente sulla foto con dove sono visto che non ne uso molto strumento scherma strumento brucia e strumento spugna che sarebbe quello anche per la saturazione e vivivezza oppure usando i livelli o o altre cose tipo questa che vi faccio vedere adesso che non è altro che agire come sotto avete visto su un livello di grigio perché sempre in modalità come uso io in soffusa o in sovrapponi come vedete se io passo sugli altri effetti mi fa vedere cosa succede se vado in sovrapponi soffusa rimane inalterata la foto lascio in sovrapponi perché è più forte l'effetto mi prendo il mio nero e dove vado a cliccare sul nero vado a scurire la mia zona ora esaspero bene per farvi vedere vado anche a recuperare dettaglio in certi per certi casi oppure se uso il bianco vado a schier uso il bianco ho detto scusate no no ho sbagliato io non sono dove volevo prendo il mio pennello prendo il mio pennello nero e vado a scurire il mio faccio il mio dodge e il mio burn ora ho esasperando per farvi vedere il concetto bianco e nero e grigio rimane diciamo inalterato usando una tavoletta grafica Berto usa io ce l'ho nel cassetto ormai da da un po' usando una tavoletta grafica avremo i livelli di pressione ovvero come agire come un pennello reale quindi più si preme sulla tavoletta più sarà forte l'effetto e così via ci permette sfumature molto più dolci molto più più tranquille credo di aver risposto alla domanda raggiungi perché non tutti la sanno se Marco torni un secondo sugli strumenti che chiaramente non si usano del dodge and burn quello della manina nella palette di sinistra sì per chi viene dalla camera oscura la mano che sarebbe lo schermo brucia e lo strumento scherma erano gli strumenti che si usavano in camera oscura cioè la mano facevi la tua bella conchetta e facevi passare la luce dove doveva passare e quindi scurivi e invece lo schermo lo strumento scherma con il fil di ferro e dei cerchietti di carta ritagliati delle dimensioni che volevi andavi a invece a mascherare scusate a schermare poi muovendo esatto ed era dicevano che prima parlavi Davide di Ansel Adams no? il padre della post-produzione in studio e dicevano che lui danzasse quasi in fase di ridotto quelle immagini con con tutti i segni della penna e i più o i meno seguiti dal numerino indicavano proprio queste operazioni che stava dicendo esatto quanti stop in più o in meno proprio si segnava proprio i secondi che si aumentava all'esposizione rispetto a quella principale o alla quale si sottraeva mascherando esattamente come è evidenziato graficamente dalla manina e dallo strumento poi è un lavoro che si fa anche adesso io lo faccio su foto difficili di stamparmi un bianco e nero su un A4 e poi andare a veramente vedere cosa fare in post-produzione anche perché è un discorso mentale anche se Photoshop ha le note da poter attivare ma preferisco più un passaggio cartaceo alla cosa scusate mi è sfuggito a questo passaggio cioè Marco stai dicendo che una volta eseguito un lavoro approfondito su una fotografia importante la stampi prima ah ok per ricordare cioè per vedere gli interventi da fare passi delle ore e ore e ore al monitor tu ti stampi una foto lui fa questo e poi se posso condividere lo schermo Marco praticamente si stampa la foto e ok tu che c'hai la penna vai e se cerchi e dici qua devo scurire qua devo schiarire qua devo pulire prenderti degli appunti anche in Capture One l'hanno aggiunto ah perdono ok no volevo far vedere che in Capture One hanno aggiunto se lo trovo eccolo qua lo strumento appunti per niente io posso dire qua che fai così e fai più uno poi fai così e fai meno mezzo stop oppure questo cambiare colore più mezzo eccetera ti fai tutte queste serie di note tant'è che per esempio Capture One ha messo questa cosa perché il fotografo potenzialmente che non può sproducere le proprie immagini ma le immagini che usa Capture One può esportare i file raw con il livello o anche a Photoshop te lo esporta direttamente in Photoshop con un livello di testo sopra insomma un livello a parte per le note esatto in modo tale da comunicare a chi ti farà la post produzione quello quello che vuoi insomma una base da cui vuoi partire è utile questa cosa è utilissimo va bene ti spingi a analizzare proprio poi il lavoro che fai tu un conto è vedere lo schermo un conto è stamparlo e avere un foglio di carta che è ancora superiore andiamo rapidamente scivolando nella parte notturna del talk vedo che i numeri stanno calando perché chiaramente la gente sta crollando addormentata quindi chi vuole rimane a a dire sciocchezze come facciamo sempre dai tempi del coronavirus come si usa ormai dire io colgo l'occasione per ringraziare davvero tutti ringrazio Simone che ha fatto un lavoro enorme per permettere la serata ringrazio Marco ringrazio Umberto ringrazio Giuseppe che non c'è più ringrazio Francesca che non si è sentita tanto ma è sempre nascosta dietro del quinto e fa un sacco di cose ringrazio il vicepresidente che non si vede ma ringrazio anche Fotto Emma finge il presidente sarebbe Rossella che non partecipa ufficialmente ma c'è sempre e fa un sacco di lavoro dietro le quinte va bene io direi buona serata a tutti grazie di nuovo Fotto Emma che è stato così presente di nascosto ma concretamente ringrazio Alessandro che ci verrà a trovare presto Alessandro Vergani che vedo ancora lì resistente che tornerà a lavorare con noi tra breve e che dire grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti